insomma stiamo andando a dici dici per chi non lo conosce siamo alla qualità di montagna in abruzzo brava grazie provincia di l'aquila bravo il ragazzo di fotografia l'ha studiata è selfie? no amore è un video, è un vlog, è un vlog, non lo stai imparando caspita ecco qua selfie vlog, oh my gosh, guarda, 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 è brutto è cos'è? è un profolino, un cab, sono un po nervosa ma potrebbero essere giorni strani allora siamo in viaggio verso Roccaraso come dicevo prima è una bella giornata e a Roccaraso ci si diverte così no però sulle montagne c'è un po' di neve tra un paio arriviamo in albergo non lo so, non lo so che cosa facciamo, andiamo incontro alle nipotine vero? vero? sì, ci stanno aspettando ecco qua, uscita Roccaraso non so se ci vede, sì, la neve, eccola ora siamo quasi arrivando, guarda che nipide tantissima bello proprio bello, allora oggi è una giornata bellissima per cosa? perché siamo in te, perciò è bellissimo proposta una bellissima proposta che non abbiamo filmato per bene perché l'emozione è stata tanta non lo so, perché lui ha posizionato la gopro, mi ha fatto una bellissima sorpresa e poi però non dobbiamo ancora vedere se è venuto per bene comunque siamo alla remogna mogna mogna e stiamo andando a... niente, a sciare no oggi a sciare no oggi, anche perché io non so sciare, lui sa sciare e io no e adesso andiamo a... dove ci sono le sue nipotine, sono anche le mie e andiamo a giocare a fare popazzi di neve azzi, azzi sì, sì quindi ciao e quindi ciao, stavo guardando, c'è tantissima neve sì, sì